Un foglio, un cavetto, una sciarpa e una fascia da capitano. Oggi invece non ho nulla perché, si dice, la perfezione non esista. Una frase fatta, ma sicuramente condivisibile, ma quale altro termine si potrebbe utilizzare per definire il campionato 2020-2021 della Juventus Women? Tre scudetti, l'ultimo assegnato a tavolino per l'interruzione Covid, sono già in bacheca, ma la Juventus ha bisogno di rilanciare. Le proprie ambizioni. In panchina c'è sempre Rita Guarino, ma la rosa è stata ulteriormente rinforzata. È arrivata l'attaccante svedese Lina Urtig, un profilo giovane, rampante e soprattutto di livello internazionale. Le bellette europee della Juventus Women vengono però subito disilluse. Il sorteggio di Lyon mette di fronte le bianconere in Lyon, 5 volte campione in Champions League, passare il turno è praticamente impossibile. Le bianconere decidono allora di porsi un nuovo straordinario obiettivo, questa volta in un contesto al loro più congeniale, ovvero il campionato. Quale? Riuscire a vincere tutte le partite a disposizione. Nessuno, neanche a dirlo, c'è mai riuscito. La vittoria per 2-0, firmata Girelli e Caruso, apre la trionfale cavalcata tricolore, seguita la settimana successiva da un rocambolesco e spettacolare 4-3 sull'Empoli. Le cinque gare che seguono vedono addirittura lo 0 alla voce dei gol subiti, con una Juve che macina calcio. Vittoria dopo vittoria. 2-0 a San Marino, 1-0 in casa del Milan, unica squadra che sarà capace di rimanere in scia fino alla fine. Un 4-0 alla Fiorentina che si ripete in trasferta contro la Pinsport Bari e addirittura in casa contro il Sassuolo. Dopo le vittorie con Florenzia-Sangiminiano, Napoli e Roma, il primo successo del 2021, nonché ultima gara del girone d'andata, viene suggellato da un sonoro 0-3 in casa dell'Inter. Il ritorno si conferma per costo trionfale. 5-0 al Verona, 0-3 contro l'Empoli, 1-3 a San Marino e decisivo 4-0 alle rivali del Milan a Vinovo, che debella definitivamente la concorrenza rossonera. Una prova di forza schiacciante che permette a Saragama e compagni di aldolcire la recente eliminazione in Coppa Italia con la Roma e soprattutto di mettere nuova benzina nel motore per concludere lo sprint finale. Da marzo a maggio spiccano il 9-1 contro la Pinsport Bari e il 6-1 alla Florenzia-Sangiminiano. C'è ancora il tempo per infilare le ultime tre partite del campionato a porta inviolata. Napoli 2-0, Roma 0-1 e Inter con un roboante 5-0 finale che conclude l'Amplein. La Juventus ha fatto 22 su 22 con 75 gol fatti e solo 10 subiti. Solo la Torres tra il 2010 e il 2013 era riuscita a vincere 4 scudetti consecutivi. Ovviamente non in questo modo. In questa festa tricolore c'è anche spazio per la gloria personale. Cristiana Girelli vince la classifica cannonieri con 22 reti. Laura Giuliani, Lisa Bottin e di nuovo la Girelli vincono i premi come miglior portiere, difensore e attaccante oltre a giocatrice della Serie A. Alla fine sono solo lacrime di gioia e di precoce nostalgia per gli AD già annunciati del portiere Laura Giuliani, uno dei simboli della Juventus Women e soprattutto di coach Ritaguarino. Secondo voi questo campionato perfetto della Juventus Women è ripetibile o si tratta di un miracolo unico? Non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook.